Ci troviamo all'Ave Stylist Concept Store a Levane per parlare di una giornata particolare, l'Open Day, una giornata che si svolgerà giovedì 3 dicembre. Siamo con Irene per presentare questa iniziativa. Stiamo organizzando in collaborazione con AirDream, l'azienda leader nel settore dell'estation, una giornata Open Day per il 3 dicembre. In questa giornata verranno effettuati servizi di allungamento e infoltimento di capelli. E per chi deciderà in questa giornata di effettuare un servizio, con almeno 150 sciocche, potrà partecipare al concorso Vuoi diventare la nuova testimonia di AirDream? Verranno fatte delle foto prima e dopo. Poi il tutto verrà spedito in Austria, dove ci sarà una selezione e a fine 2010 l'azienda AirDream organizza un grande evento, dove saranno invitati tutti i saloni partner e le loro finaliste, le 10 aspiranti modelli. Una giuria esperta primerà la nuova testimonia, la quale avrà opportunità non solo di vivere un sogno, ma di partecipare per tre giorni al servizio fotografico in una città europea. Vi aspettiamo giovedì 3 dicembre per l'Open Day, una giornata dedicata all'estension.